KITOS Sì? Chi è? Che bello, ce ne andiamo in Britannia! Lì hanno dei romani nuovi di Cicca! Ecco, Astiarax? Buonasera! Obelax? Buonserno! No, 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 non buonasera! Questi sono romani! Buonasera! È così che ci si comporta. Grosso modo. Chi mi ha detto grosso? Porta qua! Ho l'impressione di non piacere. Vuoi piacere a Miscozza? Falle un regalino e vedrai. Vado a cercare i rinforzi. Il mio rinforzo. E questi amici sono... Galli! Si capisce all'istante. Dall'accento? No, dall'odore. E' una cosa che si tratta. Grazie a tutti